E' un po' di ultimo video 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 Io sono andato da solo e con la pistola Ma ne eravate in due Comprate un'avateco Compro Compro Eh, droppate a Fabius Non ho soldi E' un po' di ultimo video Potevi farlo comunque Sì, ma quando hai bisogno di drop Dobbiamo chiedere Ah, mi sa che un attimo FK Però è in mente Ah, può essere la destra forse Scruzzatemi Non proprio Io faccio la cacca Io faccio la cacca Io faccio la cacca Ok Ah, l'avevo preso Almeno provavo Stardo Stardo Puttano con la vp mid Ciao Ciao